Come risolvere così il problema riguardo a Google Chrome che non si scarica e non si installa sul tuo computer Windows 7, Windows 10 o Windows 11? Quindi in questo caso possiamo semplicemente andare sul link che ti ho lasciato in descrizione e lo scarichi attraverso Mediafire. Ovviamente sul tuo sistema operativo ci sta Internet. Dopo che hai installato il tuo sistema operativo hai Internet, quindi Internet Explorer oppure Microsoft Edge. Quindi vai direttamente a scaricarlo, lo installi, esegui come amministratore, inizializzazione. A me mi dirà che è già installata una versione sul mio sistema quindi non mi fa andare avanti perché io tengo già Google Chrome installato. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao!